Benvenuti a bordo comandanti, io sono Blizzard e oggi nuova nave sul canale Comandanti se notate il matchmaking è molto molto strano, non stavamo giocando qualche strana assurda partita ad orari improponibili E' stato un normalissimo sabato pomeriggio nel quale avevo un'oretta per testare la nave Ma comandanti, matchmaking limitato, con poche navi in acqua, doppia portaerei, ma comunque riusciremo a mostrarvi quelle che sono le massime caratteristiche del Montcalm Una delle tre nuove navi che comporranno l'evento del D-Day, l'anniversario del D-Day che ci sarà tra qualche giorno e che uscirà con il mini aggiornamento di giovedì E' un incrociatore leggero francese molto particolare perché al suo tier rappresenta a tutti gli effetti il cruiser TR-6 con la gitata più potente di tutto il gioco Questa nave infatti pensate è capace di sparare a oltre 18 km standard, nessun altro cruiser riesce ad avere queste performance tra le navi TR-6 Ed è tra l'altro anche l'incrociatore leggero con la gitata più lunga di tutta la sezione francese Gli altri due navi comunque del D-Day event saranno la corazzata britannica Rodney e l'incrociatore britannico TR-6 Orion 44 Che comunque vedrete entrambi nel corso della settimana Il Montcalm in questa partita lo vedrete impiato soprattutto a caccia della porterie e impiato a giocare sul lato destro Considerando che siamo in totale isolamento e non avremo almeno all'inizio il supporto di nessuna battleship alleata È un incrociatore leggero con dei cannoni particolarmente interessanti ma ha anche dei lati negativi piuttosto marcati Tra tutti la mancanza se notate nel consumabile dell'engine boost Oltre al fatto che le sue qualità diciamo legate all'armatura sono assolutamente nulle Dato che comunque è un incrociatore classe la Galissonier Il suo continuo di HP è con il comandante speciale leggendario francese che ne aumenta il bonus sulle servibili di expert È di circa 30.300 Ovviamente stiamo parlando del comandante a Bonagliere Per quanto riguarda poi invece il rivestimento anti-silure del 10% di danno riduzione La sua armatura è composta principalmente da un fasciame da 16 che è quasi onnipresente ma poverete nella scheda Con una cittadella molto alta con 105 mm di protezione Il ponte è leggermente curatato da 25 ma questo non garantisce assolutamente una protezione efficiente nell'arco del match La sua velocità 32 nodi e 6 che non si possono migliorare con la bandierina Capite anche voi che questa cosa l'impedisce di essere molto più difficile da colpire come un classico la Galissonier Ecco perché deve certo mantenere certe distanze dai bersagli per riuscire a sopravvivere Qui volevamo sfruttare un attimino anche le isole del nostro vantaggio considerando che abbiamo comunque questa protezione extra sulla sinistra E quindi ci siamo di accorciare probabilmente sul Chumpon e su un destroyer nemico che sta facendo assistenza al gruppo da battaglia da questo lato Il nostro Siroko è completamente inutile di conseguenza Decidiamo di uscire ad attaccare perché la loro battleship sovietica è dietro E quindi possiamo cercare di fare un 1 contro 1 contro 2 contro altri incrociatori Magari con i quali possiamo fare a sportellate Il Chumpon resta ancora alle spalle dell'isolotto come anche il Phoenix, il destroyer e all'interno della cortina Siamo passati ovviamente ai proiettili AP Ci stiamo preparando i proiettili AP Il Chumpon scompare proprio tra qualche istante E a causa del fatto del Siroko che è troppo all'interno della nostra formazione E non è esterno a spottare Queste navi che ora non sono avvistate Siamo comunque con 4 cittadelle sul Chumpon Come sapete è un armatura particolarmente leggera E a questo punto ci portiamo sulla destra Le sue capacità di mimetismo sono di 11 km e 600 metri Capite che voi che è un spotting diciamo discreto ma nulla di eccezionale per essere un light cruiser Anzi direi che piuttosto mediocre Qui il Phoenix fa il classico colore che fanno i giocatori molto spesso a questo tier Ovvero quello di dare continuamente le brozzate e i bersagli Pensano di essere distruttibili Ma quando becchi un giocatore come me che sa utilizzare il cambio HEAP in maniera efficiente L'autopartita dura generalmente il tuo scambio è più che altro il drone ha circa 20-30 secondi Non di più Prima nave abbattuta a questo punto diamo un allontanamento Sappiamo che la bullet ship adesso è a rimuovo E di conseguenza dobbiamo cercare di staccarci Perché diventeremo sicuramente il main target della corazzata sovietica Per quanto riguarda le batterie Sono 3 torri trattate da 152 mm Che ricaricano ogni 8,6 secondi Quindi cannoni comunque con un buon DPM 15 secondi a 180 le brandeggio direi piuttosto efficiente Con la città da punto come dicevo prima a 18 km Il massimo del reparto cruiser a questo tier Il tier 6 Il munizionamento è un classico incendiario EAP Con danni da 2200 e 3200 La ballistica è standard 870 metri Con entrambi i munizionamenti Quindi questo ricorda un po' l'incrozzatura tier 10 R Diciamo che la ballistica è buona Ma non è sicuramente eccezionale come altri light cruiser Con colpi molto più veloci La fire chance Tecnicamente è del 13% Però c'è da dire una cosa E qui sicuramente è un discorso che faremo anche nella sezione skill e moduli della nave Usare o non usare Spoletta inerziale Ovvero inerzia fuse La skill da 4 punti che aumenta La penetrazione di questi cannoni Comandanti Io la consiglio fortemente Perché? Perché se non metterete EIFK Avrete sì il 13% di fire chance Ma i vostri cannoni Avranno solamente una penetrazione di 25 mm Mentre con EIFK salirete a 31 E a 31 vi permetterà di fare questi danni Anche sulle corazzate avversarie Serve da 2-3000 Ogni tanto che entrano sulla zona centrale della nave Quando colpite il ponte Ecco sono cose che non potreste fare Con una normale nave senza questa skill Che altrimenti farete serve da 200-300 Con un colpo HE Che è veramente scarsamente potente E in penetrazione Quindi consiglio fortemente Di utilizzare EIFK sulla nave Ecco perché Essenzialmente è l'unica skill Che veramente è richiesta Insieme a quella del mimetismo Come dicevo poi Come dirò poi alla fine Il comandante di un eventuale Moncalme Non è particolarmente richiesto Con punteggi molto alti Già quando siete a 14 punti skill È più che sufficiente Per farlo funzionare al meglio È questo piccolo incrociatore Le secondarie Sono vabbè scarse Ma poi le trattiamo comunque Sono 4 torri binate Da 90 mm 3,6 secondi di ricarica 1300 di danno Con 5,9 km Vengono utilizzate solamente Quando fate dei rush nel fumo Come ho fatto io prima Oppure c'è qualche nave Che spunta all'ultimo Da un isolotto Altrimenti non entreranno mai In azione Comunque 90 mm Sapete bene Che è un calibro assolutamente scarso E poco performante Chi gioca alla Regia Marina Ne sa qualcosa Questa nave poi ha dei siluri Che sono siluri però Piuttosto situazionali Due siluri per lato Con un danno di 14.869 fino a 6 km Solamente per il combattimento ravvicinato Sono siluri veramente piuttosto scarsi e mediocri Sia in danno che in velocità Nonostante siano dei 550 mm Per quanto riguarda L'attacco anti-sommergibile All'attacco Airstrike Singolo Fino a 2900 di danno massimo Con le bombe ogni 30 secondi Fino a 6 km Quindi non doppio attacco Ma attacco singolo Devo dire che Non è poi così facile da gestire Considerando che La hitzone Sul sommergibile È particolarmente piccola E quindi Bisogna comunque utilizzarlo Veramente con grande accuratezza Non è facile da gestire Per quanto riguarda L'anti-air Diciamo che è sufficiente Ma non certamente potente Per essere un light cruiser E tratta infatti di batteri Da 20, 40, 90 mm Fino a 4,6 km Con un danno continuativo di 203 E un danno radiante di 1029 Diciamo che potrete gestire Abbastanza bene le portiere tier 6 Contro le tier 8 Che potreste incrociare La cosa assolutamente Non funziona Qui si stiamo portando Praticamente in kiting Il Vecchi Sovietico Mentre la cionpone rientrata E il Fubuki Non si farà Praticamente più vedere Il Siroko Addirittura se guardate Insiste a utilizzare Principalmente i siluri Non usa i cannoni Io veramente Questa gente Che gioca a navi Che non conosce Non la capirò mai Per quanto riguarda poi I consumabili Abbiamo il classico Combo sonar O defense fire Noi scegliamo Come sempre il sonar Che ha uno spotting Di 3 km Sui siluri Scusate 4 km Sui siluri 110 secondi Di durata 114 di ricarica E infine La particolarità maggiore Di questa nave Ovvero il fatto che Invece di un normale Engine Booster Questa nave monti Il Main Butter Load Booster La classica consumabile Presente su tantissime navi Ma di tier molto più alto Rispetto a un semplice tier 6 Questo Main Butter Load Booster Vi permetterà di ricaricare Velocemente i canoni Con il 50% Di ricarica migliorata Per 15 secondi Con 114 di ricarica Particolarmente utile Quando magari dovete cercare Continuamente l'incendo Sugli avversari Oppure dovete liquidare Velocemente l'avversario A corta distanza Con i colpi a P Come è capitato ad esempio Sul Phoenix A inizio partita Queste sono generalmente Le statistiche Del Montcalm Che è un classico Incrociatore Che si gioca in seconda linea Che diciamo È fatto per il fuoco A distanza Quando va in kiting Ha il piccolo vantaggio Che le Battleship tier 5 Tier 6 Tier 7 Che diciamo Incrocerà per la maggior parte Sono trattate quasi sempre Di scarsa precisione E quindi dovete sempre giocare Più che altro sul fatto Che le Battleship Potrebbero mancarvi Ma se vi prendono Faranno malissimo Però vedete infatti Nella scheda L'armatura è veramente Fatta di carta velina Un Light Cruiser Fatto e finito Che fatica In campo aperto A resistere contro Il focus incrociato E che Però Diciamo Fatica anche tra le isole Perché comunque Il timoneria è eccezionale Vira infatti Pensate in soli 6 secondi e 7 Con un raggio Un raggio di timoneria Di 660 metri Sembra più un destroyer Però a comandanti In quel caso Servirà comunque Lo spotting E il colpo Non è così A parabolo Come quello di un Demoin Da 800 metri Che permetterà di superare I bersagli fisici Diciamo di qualsiasi tipo Ecco perché Lui gioca effettivamente In campo aperto Ma deve stare attento Quando spara E su cosa spara Per quanto riguarda La storia della nave Che la trattiamo velocemente Perché effettivamente Comunque È un incrociatore Realmente esistito Come avete visto Anche dalla copertina L'incrociatore Leggero Montcalm È stata una nave Classica Galgallistoniere Classica navale Realizzata dalla Francia Per sostituire Le vecchie Milbertin La nave La nave venne costruita Presso i cantieri De Forge Chatier Vicino a Tolone Ed entrò in servizio Il 15 novembre Del 37 Assegnata Alla quarta squadriglia Cruiser Effettuò una serie Di crociere operative In Indocina Prima di tornare in Francia Per rappresentare Il suo paese Alla fiera mondiale New York Nel 1939 Spostata Nella seconda flotta Con compiti Di spattugliamento In Atlantico Prese base A Casablanca In Marocco Per sfuggire Ai raid nemici Prima di spostarsi In Norvegia Per aiutare Alla flotta inglese Fino all'estate del 40 Torna in Africa Del nord Nella seconda parte Dell'anno Sempre del 40 E sfugge Alla parziale distruzione Della flotta francese Dopo l'invasione E occupazione tedesca Raggiungendo Gibraltar In seguito Dakar E diventando però Nave a servizio Della Francia Filo tedesca La Francia di Vichy Questo fino al 43 Quando passati due anni Con scarso utilizzo Cade nelle mani alleate In seguito all'invasione Del nord Africa La famosa operazione Torch E viene rimodernata A Filadelfia Negli Stati Uniti Diventando incrociatore Di pattugliamento Durante lo sbarco In Normandia A Domabic Nel giugno del 44 Con alcuni compiti Di cannoneggiamento Sulla costa A guerra terminata Fece un ultimo viaggio In Indocina nel 54 E venne messa In disarmo A Tunisi nel 57 Prima di essere Rimorchiata a Tolone E qui diventare Una semplice nave Come è alloggio Per sommergibilisti Per circa dieci anni Per essere infine demolita Il 31 dicembre 1969 Questa è la brevissima Storia del Montcalm Nave che ha giocato In entrambi gli schieramenti Della seconda guerra mondiale E anche se è passato Tantissimo tempo Tra il 41 E il 43 È praticamente bloccata Considerando che era Ferma in Marocco E che In quegli anni Non poteva spostarsi Considerando il predominio In quella zona Della Royal Navy Che affondava Qualsiasi cosa Non vedeva l'ora Tra l'altro Di fargli la festa Se avete notato Siamo andati ora In attacco sulla Ranger Qui ci pensavamo Di ormai Non raggiungere il Vezer Perché se non notate Questo problema Legato alla velocità È piuttosto tangibile Anche in questa circostanza Un incrociatore leggero Come questo Francese Che va a 32 nodi e mezzo Con la bandierina Senza possibilità Di migliorare Comandanti La sua velocità È una cosa Piuttosto insolita Per un giocatore Che è abituato Come me A giocare In crociatori francesi Che quasi sempre Godono Di questo Engine Boost Come sapete L'engine Boost Questo consumabile Di potenza extra Del motore Dall'8 al 20% Solitamente È stato propriamente Varato Prima su Ma poi è stato Inserito Nella Francia Proprio con il lancio Dei cruiser francesi I cruiser francesi Sono stati i primi A montare Questo consumabile Questo è uno Dei pochissimi Incrociatori Che io conosca Francese A non montare Questo consumabile Se avete poi Notato Che il corpo A 152 AP È piuttosto Scostante E a volte La città della Entra Come sulla Ranger A volte Non entra Sulla Veser Abbiamo provato A colpire In entrambi i modi Avete visto Che non sempre Il colpo AP Era particolarmente Efficace Ecco perché Siamo passati Al colpo AP Anche perché Avendo I FK A bordo Comandanti Le performance Che può offrire Su qualsiasi genere Di armature Sono piuttosto Performanti Qui abbiamo cercato Dei colpi A metà nave Per vedere Come si comportava Il proiettile AP Ma se notate Il danno È molto simile A quello dell'HI E la città della Assolutamente Non entra Abbiamo provato Un tiro Sì sulla linea Di galleggiamento Che un tiro A mezza nave Ma i risultati Non sono assolutamente Cambiati A questo punto Arriva all'affondamento Della Veser Da parte della nostra Agnesino Spinta a sinistra E possiamo andare Sul Fubuki Per poi completare La partita Che finalmente Vediamo il nostro Sirocco Che apre il fuoco La kill è tutta nostra Comunque comandanti Quasi 120.000 Danni In 9 contro 9 Direi che è un risultato Di tutto rispetto Per una nave tier 6 Anzi Di altro profilo È infatti arrivato Light Caliber Quasi 250 colpi 7 riabbattuti 3 kill Un sacco di cittadelle Fatte contro Targa delle giri E 6 incendi Avete visto come Nonostante comandanti Ci sia il dimezzamento Della Fire Chance Gli incendi sono comunque Arrivati Siamo arrivati Ampiamente primi Buono anche il lavoro Della Gnesina Sul lato sinistro Dalla loro parte Portarei poco performanti E poca coesione Da parte degli avversari Per quanto riguarda I moduli E le skill consigliate Sul moncamp Sono le seguenti È una setup molto particolare Comandanti Se notate La skill Isorability Expert È migliorata Grazie alla comandante Bonayet Che invece di 400 Porta 500 punti I punti vita Che si possono ottenere Per ogni tier Della nave Come dicevo all'inizio Il comandante Standard Di questa nave Non richiede Particolari skill Una volta che avete preso La stand Il priority target Adrenaline rush E ovviamente Le due skill Da 4 punti Ovvero Il mimetismo migliorato E Inerzia fuse O spoletta inerziale Perché c'è il client In italiano Stop Una volta che avete speso Questi 14 punti Il comandante Funziona benissimo Poi Il sorbillette Expert E la skill Di miglioramento Delle primarie Solo quando È un nemico È spottato Al di sotto Del vostro raggio Da spotting Sono skill Diciamo Di secondo piano Non sono indispensabili Quindi già un comandante Da 14 punti Lavora benissimo Sul moncamp Per quanto riguarda Il discorso legato Ai moduli Abbiamo migliorato Ovviamente La precisione Il propulsion Perché siamo costantemente In kiting Specie quando siamo In campo aperto E poi Il miglioramento dei moduli E anche il rafforzamento Della timoneria E del motore Che come tutti I cruiser Che giocano ogni tanto In campo aperto Possono essere Spesso incapacitati E causare Spiacevoli conseguenze Anche se comunque Con il last stand Un minimo di performance Quando magari La nave Anche è danneggiata Riuscite comunque Ad averlo Ho preferito Lasciar perdere Come andanti Il discorso legato Al brandeggio torri Perché comunque Le torri girano A 180 gradi In soli Pensate 15 secondi Standard Quindi è più che sufficiente Per gestire ogni aspetto Di brandeggio Della nave L'armatura è la seguente Come dicevo prima È particolarmente leggera C'è questo 16 mm Quasi ogni presente La cittadella È molto alta Per quel 105 laterale È effettivamente La cittadella Non c'è alcun fasciame Extra O protezione Spaziatura Che vi protegga C'è quel pote centrale Da 25 Che sembra quasi Una presa in giro Perché in realtà Non vi protegge Praticamente da nulla Dovete sperare Sempre che i target Vi manchino Altrimenti Saranno dolori Le torri Sono molto leggere È facile anche Incapacitarle Lo possono fare Anche diversi Destroyer Che non è particolarmente Grossi Come quelli francesi O alcuni tedeschi Per quanto riguarda La cittadella È la seguente Può sembrare Una cittadella Molto bassa Ma in realtà Lo è solo Lo è solo Per un effetto ottico Perché se notate Quel 60 mm Dove c'è la linea Di cittadella È molto più alto Questo perché Sotto le torri La cittadella È effettivamente Sotto la linea Di galleggiamento Ma nella Zavada 105 Quella è già la cittadella Quindi ha questo effetto Tipo all'americana Dove nella zona central La cittadella è più alta Mentre la prua e la pupa Questa si abbassa Se però qualcuno Vi prende nella zona Ovviamente Di centronave E quello comandanti È un dolore fortissimo Che subirete È da una cittadella Al 100% Ecco perché È così grande È così alta E anche la zona centrale Bisogna assolutamente Considerarla Questa è la scheda Armatura generale Del Montcalm Per quanto riguarda I pro e i contro Il bilancio conclusivo È ovviamente Un bilancio Piuttosto pari Tendente al positivo Io la trovo comunque Una nave discreta Che fa il suo lavoro In campo aperto Grazie soprattutto Alla extra agitata Che è unica Nella sua tipologia Ampia agitata Main battery load booster Brandeggio elite Senza tra l'altro Richiesta di un bonus Buoni tempi di ricarica Perché comunque Sono 9 canoni Da 152 Ogni 8 secondi e mezzo Più adrenaline rush Quindi il DPM Che può generare È comunque interessante Timone fantastico Perché comunque 660 metri Di raggio virata È il comandante Il timone Di alcuni Incrociatori Di alcuni destroyer Questo è un incrociatore Quindi è capace Veramente di effettuare Dei cambi di manovra Improvvisi Difficili da considerare Nelle mani magari Degli avversari Che cercheranno Di spararvi E magari Non riusciranno A mai a trovarvi Grazie per l'ottima Timoneria Giocabile anche Con comandanti Con pochi punti Come dicevo prima Un comandante Da 14 punti Stop Una volta che avete preso Il mimetismo E spaletta inerziale Il resto delle skill Sono assolutamente opzionali Sono degli extra Sì Sempre meglio avere Un comandante da 21 Come su tutte le navi Però 14 punti È lo standard Per far lavorare bene Questa nave I punti deboli Armatura scarsa Perché comunque È leggerissimo Mimetismo scadente Per un light cruiser 11 km Comandanti E 600 Metri di spotting Considerando Spottabilità via acqua Considerando che È un light cruiser Sono tantissimi Ecco perché È meglio usarlo In campo aperto Piuttosto che vicino Alle isole Considerando appunto Che fatica tantissimo A manovrare In allontanamento Grazie alla velocità ridotta Che più di voi Che quando siete spottati E magari La storia vi insegue Non riuscirete mai A staccarvi Questo può diventare Molto fastidioso In qualsiasi genere Di partita Siluri di solo I 6 km Appunto Sono siluri Molto situazionali E poi è lenta Come dicevo prima Il gameplay È molto dimensionale Perché Effettivamente È uno spammer incendiario Di lunga distanza Che può colpire Con le opi Solo quando Qualche folle Mostra al fianco Altrimenti Quello è il suo gameplay E infine Niente Engine boost speed Come dicevo all'inizio Questa anomale Di non avere Engine boost speed È una cosa Molto strana Da sopportare Perché è abituato Come me A giocare I cruiser francesi La Wargaming Gli ha voluto dare Questa extra agitata Questo main battery Loot booster Ma gli ha elevato Il mimetismo Gli ha elevato La velocità E gli ha elevato Poi il fattore Legato al repair party Che magari Su alcuni light cruiser È comodo In questo caso I punti vita sono quelli E dovete gestire quelli Nave discreta Sicuramente buona Nelle mani Di magari Di un giocatore Particolarmente esperto Sconsigliata magari A chi è alle prime armi Considerando che è una nave Che comunque Il danno Non lo sa sopportare E i giocatori Magari normali Gli errori Spesso in partita O i giocatori nuovi Ne commentano a bizzef E questa nave Gli errori Li paga a caro prezzo Come avete visto Secondo la scheda armatura Questo è il moncalma Per quanto riguarda il finale Come sempre vi ricordo Che siamo all'interno La settimana su Twitch Del lunedì al venerdì A volte anche la domenica Dopo le 20 Giù nell'info box C'è il link Al nostro canale Twitch Iscrivetevi anche lì Se volete Vi ricordo inoltre Che se volete veramente Dare una mano al canale Magari avete Amazon Prime Non ci fate nulla Potete collegare Il vostro Amazon Prime A Twitch Tenere quindi Prime Gaming E abbonarvi a costo zero Senza pagare niente Alle mie produzioni Ci penserà Twitch A darmi un piccolissimo Contributo mensile Per conto vostro E voi sostanzialmente Offerete un importantissimo E fondamentale servizio Per migliorare la postazione Dei nostri video Qui su World of Warships Giù nel primo commento Pingato C'è il link Per collegare Twitch Al vostro Amazon Prime Un grazie sempre A tutti quelli Che si attivano In questo modo Diventano sostenitori Della Blitz X Della Blitz Squad Perché è il modo migliore Per sostenere le nostre iniziative Tra i mari Di questo gioco Signori Per il mio calm è tutto Noi ci risentiamo Giovedì Con l'Orion 44 La seconda Delle tre nave Di evento del D-Day In uscita Sui mari Di World of Warships Come sempre Da sotto scritto E da Mr. Gray Buona caccia Buona caccia